Sindaco presente, Acampora presente, Amato presente, Andreozzi presente, Bassolino presente, Borrelli Rosaria assente, Borriello assente, Brescia presente, Carbone presente, Cecere assente, Cilenti presente, Clemente presente, Colella presente, D'Angelo Bianca Maria presente, D'Angelo Sergio presente, Esposito Aniello presente, Esposito Gennaro presente, Esposito Pasquale assente, Flocco presente, Fusito presente, Grimaldi assente, Guangi presente, Lange assente, Longobardi assente, Madonna assente, Maisto presente, Maresca presente, Migliaccio assente, Minopoli assente, Musto presente, Pai Pais presente, Palumbo presente, Pepe assente, Rispoli assente, Saggese assente, Sannino presente, Savarese Datri assente, Savastano presente, Simeone assente, Sorrentino presente, Sorrentino presente, Vitelli presente, Lange presente, 27. Allora sono in aula, presenti 27 consiglieri, è presente il consigliere aggiunto Savari Lavrendra, la seduta è valida, prego i consiglieri di prendere posto e apro il consiglio alle ore 10.31. Prima di avviare il consiglio do comunicazione, comunico all'aula che in ottemperanza quanto previsto all'articolo 166,2 del decreto legislativo 267-2000 e articolo 16 del regolamento di contabilità, l'aggiunta comunale adottato prelevando il relativo importo dal fondo di riserva la seguente deliberazione, delibera di giunta comunale 15 del 31-2023, avente ad oggetto prelevamento del fondo di riserva del bilancio di previsione con riferimento all'esercizio provvisorio anno 2023, ai sensi del punto 8-12 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo 118-2011, per la realizzazione delle attività denominate piano freddo per le persone senza dimura, proponente trapanese. Ricordo al consiglio che i processi verbali delle sedute tenute sin data 15 e 21 dicembre 2022 sono stati inviati a tutti i gruppi consigliari a fini della formulazione di eventuali osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri. Non essendo pervenuti né rilievi né osservazioni li pongo in votazione dandoli per letti e condivisi. Chi è d'accordo resti seduto, che è contrario al Zilamano, chi si astiene lo dichiari. Dichiaro scrutatori della seduta odierna, il consigliere Cilenti, il consigliere Palumbo, la consigliera Bianca Maria D'Angela, hanno giustificato la propria assenza, il consigliere Pasquale Sposito, il consigliere Borrelli, il consigliere Minopoli e il consigliere Pepe, comunica il proprio ritardo, la consigliera Sagese. Prima di avviare i lavori del consiglio, ho una richiesta del consigliere Cilenti di dedicare un minuto di silenzio al crociard che è morto nei giorni scorsi e propongo all'Aula di evitare stamattina, se è possibile, gli articoli 37, chiaramente devo avere il consenso dell'Aula. Presidente, prego, per concentrarci sull'argomentazione del consiglio monotematico, chiaramente è una proposta, insomma la rimetto alla decisione dell'Aula, Guanci, prego. Sì, non è una polemica, innanzitutto buongiorno a tutti, ma parliamo solo noi? Iniziamo così? Eh no, però io, le serie degli assessori sono tutte vuote stamattina, non ci sta nessuno. Un argomento così importante, un argomento che penso debba essere sentito da tutta la città, da tutti i consiglieri, ma anche dagli assessori. Io vedo, forse ho un problema agli occhi e quindi mi riesco a guardare e a vedere bene, ma mi sembra di vedere le sedie mezze vuote. Allora, grazie consigliere. Io volevo un attimo distinguere l'elemento importantissimo che i colleghi stanno rappresentando con una cosa che ritengo altrettanto importante. Tanto si sta facendo per dare una mano a chi non ha nulla, senza dimora in modo particolare, ma nonostante gli sforzi che si stanno facendo, ancora una morte ieri mattina. Quindi chiedo al Consiglio di avere un momento di raccoglimento e di silenzio per ricordare la scomparsa di questo giovane extracomunitario nella nostra città. Grazie. 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 Allora, se siamo tutti d'accordo, io passerei direttamente a... Prego, Consiglia Clemente. Chiedo scusa alla Presidenza e a tutti se non rinuncio a questo articolo 37, ma corrisponderò veramente in chiave di sintesi e di brevezza. Però il Consiglio Comunale si riunisce a giorni da un momento straordinario di accoglienza dei migranti nella nostra città al porto dove è stato alta importante l'orgoglio rispetto alla conferma dell'identità napoletana di città accogliente e soprattutto solidale. Ed è proprio per questa solidarietà che il Consiglio Comunale si riunisce anche oggi per la prima volta dopo i fatti drammatici che hanno attraversato le terre della Siria e della Turchia. E quindi voglio approfittare della presenza in aula del Sindaco per chiederle, Sindaco, per chiederti di istituire presso il Comune di Napoli un centro di raccolta e delle indicazioni alla nostra cittadinanza per quel lavoro, per quel sentire, per quell'attivarsi di solidarietà e di vicinanza a queste popolazioni che in questi giorni appunto si sta diffondendo tra comitati, tra centri di raccolta di natura cattolica, di natura politica, di natura civile. Credo che sia veramente importante che il Comune di Napoli possa diventare punto di riferimento istituzionale di un centro di raccolta e potenziare e coordinare le tante attività spontanee e forti che in questo momento, pensando a quelle popolazioni, sono nate. Quindi vi ringrazio, questo era lo spirito del mio articolo 37, i contenuti che sono certi a essere sentiti e condivisi da tutti all'Aula. Grazie consigliera Clemente. Ci sono altri interventi? Posso procedere con la seduta monotematica? Beh, procedo. Grazie. Allora, la seduta odierna è appunto di trattazione monotematica e ad oggetto no all'autonomia che divide. Chiede l'intervenire in Aula il Sindaco Gaetano Manfredi. Allora, oggi... Questo si sente? Bene. Oggi noi abbiamo questo... un'occasione importante, un'occasione di riflessione e di dibattito sul tema dell'autonomia. Io su questo argomento, poi ovviamente ascolteremo quelli che sono i contributi che vengono dall'Aula. Volevo fare alcune considerazioni di tipo generale, che riguardano sia gli assetti istituzionali del Paese, sia le tematiche che sono legate a questo aspetto specifico del disegno di legge che è stato immaginato e che riguarda l'autonomia differenziata. Qualsiasi ragionamento noi facciamo deve essere contestualizzato rispetto a quella che è la situazione attuale del Paese e anche di quella che è la dinamica internazionale delle politiche che noi stiamo portando avanti a livello italiano. Il tema della dimensione nazionale. Esiste in primo luogo una prospettiva che è di tipo economico-istituzionale. Oggi la nostra Costituzione prevede che ci sia un'eguaglianza di diritti, un'eguaglianza di servizi in tutto il Paese. Quest'eguaglianza ad oggi è un'eguaglianza che è enunciata ma non praticata. Gli ultimi dati che emergono dall'analisi della spesa aggregata che sono stati raccolti dall'Istat e da altre istituzioni nazionali mostrano che in molti settori la spesa aggregata pubblica è molto differente a seconda delle varie parti d'Italia. La spesa nel nord è molto più alta rispetto a quella del centro e a quella del sud e questo significa come conseguenza che la qualità dei servizi e l'entità dei servizi è fortemente differenziata. Noi non dobbiamo in questo nascondere che la qualità dei servizi non dipende solamente dalle somme che vengono destinate ma anche dalle efficienze e dalla qualità delle pubbliche amministrazioni che li utilizzano. Però è indubbio che a parità di investimenti poi si può parlare di parità di efficienza. Se gli investimenti sono differenziati è chiaro che anche un'eguale efficienza significa diritti differenziati a seconda delle varie parti del paese. E oggi i dati ci dicono che la spesa in istruzione, la spesa in sanità, la spesa in educazione, la spesa in servizi sociali ha delle profonde differenze da regione a regione. Il secondo punto di cui dobbiamo tener conto è qual è la dinamica economica complessiva a livello nazionale. Tutti gli studi che sono stati portati avanti negli ultimi anni dimostrano che la scarsa competitività del paese e la ridotta capacità di produzione e di ricchezza del paese sono fortemente legate agli eccessivi divari che esistono nel nostro paese. Il prodotto interno lordo ovviamente è conseguenza di tanti fattori ma uno dei fattori principali è la partecipazione ad esempio al mercato del lavoro. E' chiaro che nel momento in cui noi oggi abbiamo in Italia i più grandi divari a livello europeo di partecipazione al mondo del lavoro della componente femminile e al sud Italia partecipa, hanno un'occupazione circa il 40% delle donne nettamente al di sotto della media italiana e nettamente al di sotto della media europea. Quando c'è un grande divario di partecipazione al mondo del lavoro delle componenti giovanili quando c'è un grande divario territoriale che non è solamente un divario tra nord e sud ma tra aree metropolitane e aree interne, tra aree costiere ed aree interne la presenza di questi forti divari determina una scarsa competitività del paese. Questo è stato più volte sottolineato dalla Commissione europea e infatti il motivo principale per cui è stato realizzato il piano nazionale di ripresa e resilienza e il motivo principale per cui l'Italia è stato il paese che ha avuto più risorse in tutta la dimensione europea è stato quello proprio di abbattimento dei divari proprio perché è consapevolezza comune che solo in questa maniera si può aumentare la potenzialità di crescita del paese e raggiungere livelli più alti di reddito e di ricchezza prodotti dall'Italia. Quindi qualsiasi riforma viene messa in campo deve avere come priorità l'abbattimento dei divari non perché interesse delle aree più svantaggiate ma perché interesse complessivo del paese intero un paese più uguale, un paese più ricco e che garantisce un reddito migliore a tutti. Per questo motivo considerando questo aspetto qualsiasi intervento legislativo che non miri alla riduzione dei divari ma cristallizzi la situazione attuale o addirittura incrementi il divario che oggi esiste contro l'interesse non delle parti più deboli del paese ma contro l'interesse del paese stesso. Per questo motivo è fondamentale che ci siano una valutazione complessiva, questo appunto di vista economico e istituzionale che guardi proprio a questa direzione, la riduzione del divario e la maggiore competitività del paese intero. Esiste poi un altro aspetto che è un aspetto molto importante che è l'aspetto delle materie trattate dal disegno di legge. Oggi tutte le materie che sono argomento dei poteri dello Stato ad eccezione di quelle della difesa e di poche altre possono essere oggetto dell'autonomia differenziata. E' evidente che ci sono alcuni argomenti che oggi necessitano politiche che sono politiche non neanche nazionali ma politiche europee. Pensiamo al tema dell'energia che oggi chiaramente è un argomento che viene trattato per poter essere competitivo a livello europeo. Pensiamo ai temi che sono legati alle grandi reti di trasporto, gli aeroporti, i porti che sono un argomento assolutamente di dimensione europea. Pensiamo ai temi dell'educazione perché la costruzione di uno spazio europeo dell'educazione è uno degli obiettivi prioritari a livello europeo perché garantisce maggiore libertà di movimento e maggiore competitività dei nostri giovani. Pensiamo a tutti i temi che sono legati alla protezione dell'ambiente e alla difesa dell'ambiente naturale. Questi temi sono temi che non possono essere oggetto di politiche differenziate da regione a regione, hanno bisogno di una forte politica nazionale che deve essere fortemente integrata in una politica europea. Quindi l'idea che ci possono essere regioni che da sole gestiscano o l'energia o i porti o gli aeroporti o la politica educativa è chiaramente un'ipotesi che va contro l'interesse del paese, contro l'interesse di un'Europa che deve essere sempre più solida e sempre più integrata. L'ultimo punto sul tema di quelli che sono gli equilibri istituzionali, in questo disegno di legge la devoluzione dei poteri riguarda esclusivamente le regioni. negli ultimi anni, dopo la grande crisi del 2008-2011, le istituzioni locali che sono state più danneggiate sia in termini di autonomia che di trasferimento di risorse sono stati comuni, perché i comuni hanno avuto una riduzione enorme di quelli che sono stati i trasferimenti statali e questo lo abbiamo vissuto noi come comune di Napoli, però questo è un tema nazionale che riguarda tutti i comuni nazionali e non hanno avuto nessuna opportunità né di programmazione autonoma e anche una ridotta capacità di accesso in maniera diretta a quelle che sono le risorse europee. Questo chiaramente dal mio punto di vista non va nell'interesse dei cittadini, i comuni sono le grandi istituzioni di prossimità che garantiscono i servizi essenziali e determinano la qualità della vita dei cittadini, il loro potenziamento in termini sia finanziari che di poteri rappresenta il modo migliore per garantire una migliore qualità della vita delle persone, l'allontanamento dei cittadini dalla politica deriva proprio da questo, dal fatto che loro avvertono dal mio punto di vista che il loro voto è ininfluente rispetto a quello poi che è il cambiamento delle loro condizioni di vita, anche gli ultimi dati delle elezioni che sono in corso nel Lazio e in Lombardia dove c'è un'affluenza che è circa la metà di quello della volta scorsa con un campanello d'allarme enorme, gravissimo per quanto riguarda l'assetto istituzionale del paese, quindi qualsiasi ragionamento di riforma dei poteri decentrati non può prescindere dal ruolo dei comuni e delle grandi aree metropolitane. A questo va aggiunto anche una quantificazione tipo numerico, se noi guardiamo il nostro comune è la nostra area metropolitana, il comune di Napoli fa un milione di abitanti, l'area metropolitana ha più di 3 milioni, intorno ai 3 milioni di abitanti è molto più grande di molte regioni che avrebbero l'autonomia differenziata, quindi proprio dal punto di vista degli effetti e dei benefici rispetto a quelli che possono essere gli interessi dei cittadini un disegno di legge che non guardi a un riordino complessivo del potere degli enti locali e del rapporto tra periferia, centro e Europa sicuramente non fa il bene del paese, per questo motivo io credo che sia necessaria una presa di posizione forte per fare in modo che ci sia un dibattito politico ampio, che questo progetto venga profondamente rivisto, che si apra a una discussione, che sia una discussione che riformi complessivamente quelli che sono gli assetti degli enti locali guardando a quelli che sono gli interessi dei cittadini e gli interessi del paese, sono argomenti troppo importanti perché diventino bandiera elettorale di una qualsiasi parte politica ma debbano essere argomenti di discussione seria, profonda e serena tra tutte quelle che sono le forze positive del paese, sia dal punista politico che dal punista produttivo. La circostanza che rispetto a questo disegno di legge ci siano non solo delle differenze di posizione a livello geografico nazionale, a livello politico nazionale ma anche a livello economico nazionale, anche la compindustria si è schierata in maniera molto critica rispetto a questo disegno di legge, ci fanno capire che la strada da seguire è una strada molto diversa, che deve veramente guardare a un riformismo serio, io ritengo che già la riforma del titolo quinto che è stata fatta non ha fatto il bene del paese perché è stata fatta in maniera troppo affrettata, con troppi punti d'ombra, oggi credo che su solo le 24 ore è riportato che i conflitti tra Stato e Regioni hanno raggiunto il numero più ampio della storia del paese, che è veramente un paradosso perché aumenta ovviamente la conflittualità istituzionale e questo non fa bene a nessuno, io ritengo che ci voglia veramente un profondo ripensamento rispetto a questa posizione, noi dobbiamo difendere gli interessi della nostra città e delle nostre comunità, dobbiamo lavorare per un riequilibrio concreto di quelli che sono i diritti nel nostro paese, lo dobbiamo fare con la consapevolezza che l'autonomia è un valore ma deve essere ben utilizzata e qualsiasi discussione e qualsiasi riforma deve nascere da un concerto istituzionale. Il mio intervento è ricordato quando è stata scritta la Costituzione, noi venivamo da una guerra molto sanguinosa, in un paese molto diviso, però quando si è scritta la Costituzione italiana tutte le forze politiche che erano presenti nell'assemblea costituente alla fine hanno trovato una sintesi nell'interesse dei cittadini del nostro paese e ancora oggi abbiamo una Costituzione che è una delle migliori al mondo. Se noi non seguiamo quella strada possiamo fare solamente grandi danni e quindi dobbiamo, e poi io credo che sia legittimo che le assemblee elettive, i parlamentari, gli eletti del mezzogiorno indipendentemente da quelle che sono le loro posizioni politiche difendono gli interessi dei nostri cittadini e dei nostri territori perché davanti all'interesse primario e dei nostri territori non esiste appartenenza politica, ma esiste solamente l'appartenenza ai propri eletti e alle proprie comunità. Grazie. Grazie al Sindaco Manfredi, è iscritto a parlare il consigliere Fulvio Fucito, prego consigliere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, al Sindaco, alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Innanzitutto volevo personalmente ringraziare il Sindaco di Napoli, il Professore Manfredi, per questa occasione che ci dà stamattina di poter aprire un serio dibattito su un tema meritevole di tutela. Un po' tutti ci aspettavamo con un esecutivo di centrodestra, ma influenzato più che mai da una spinta leghista importante che si tornasse a parlare di autonomia differenziata. E questo è un po' anche l'inevitabile scoglio che ci troviamo a fronteggiare a causa di una, consentitemi di dire, particolare e scialba campagna elettorale che tanti partiti durante le ultime elezioni si sono trovati ad affrontare. Perché hanno preferito alla coesione e all'unità una frammentazione politica con la conseguenziale consegna della Nazione a chi ha paventato e paventa da sempre una disgregazione e non unità. Quindi ovviamente ci troviamo oggi a discutere di un disegno di legge annunciato perché questo disegno di legge non nasce oggi ma è il frutto del dibattito e del frutto di quello che la Lega Nord, l'ex Lega Nord, l'attuale NEGA, parla da un bel po' di anni. È presentata quindi dal Ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli che propone quindi questa riforma al titolo quinto della Costituzione in base a cui le regioni possono chiedere allo Stato competenza esclusiva su ben 23 materie di politica pubblica tra cui ovviamente ci sono materie fondamentali, di fondamentale importanza come il lavoro, l'istruzione, la ricerca, l'ambiente e soprattutto la salute. Personalmente rappresento a me stesso e a tutti voi di non essere in linea di principio contrario all'autonomia che a mio avviso può rappresentare anche un valore ma sicuramente non posso essere favorevole a questo tipo di autonomia così come paventata dal Ministro Calderoli. Un'autonomia ci deve essere ma deve essere un'autonomia che garantisce i diritti di equità per tutti e non diritti di ciascuno. affinché tutti i cittadini possano essere trattati nello stesso modo e con i medesimi interessi e questo ovviamente è fondamentale per la crescita futura del Paese perché un Paese unito è un Paese più forte. Il rassetto dovrebbe essere complessivo a partire anche dai comuni come ricordava le stesso Sindaco qualche mese fa durante un meeting atteso che ancora oggi i comuni che erogano poi i servizi diretti ai cittadini e alle persone hanno pochissima autonomia e pochissimo range e ovviamente in alcune dure realtà come ci sono problemi da fronteggiare come la riscossione diretta che pregiudica poi ulteriormente zone e soprattutto quelle del Sud già particolarmente degradate e disagiate. Purtroppo al momento sembra che sulla questione ci sia anche un non troppo corretto dialogo istituzionale tra l'esecutivo che consegnando alla conferenza delle regioni un progetto di legge di attuazione per l'autonomia differenziata mette in effetti il turbo compressore al motore separatista della nazione e quindi ovviamente auspicando a una visione unitaria del Paese non posso che avanzare serissime critiche a questo disegno di legge sull'autonomia differenziata. È giusto anche, lo abbiamo fatto un po' tutti, porci degli interrogativi sulla questione perché dall'attenta analisi di questo progetto di legge ci sono delle domande che ci siamo posti ovvero su che cosa passi realmente dallo Stato alle regioni. potestà soltanto di natura legislativa o anche funzioni amministrative da uno studio del decreto l'articolo 11 vuole rassicurare affermando che la legge riguarda l'attribuzione delle funzioni connesse al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia quindi il quesito che ci poniamo è che sono solo funzioni amministrative con un'occasione reale di efficientamento del Paese e di sburocratizzazione o qualcosa di diverso. Purtroppo se ci soffermiamo a guardare la bozza Calderori ci accorgiamo che non è effettivamente così non è così perché dall'analisi dell'articolo 6 si stabilisce per cui nelle regioni stesse è stabilita la vigenza delle leggi statali che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinati gli ambiti oggetto della stessa e ancora le disposizioni statali successive osservano le competenze legislative e le funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nell'intese tutte domande a cui non siamo in grado di fornire delle risposte troppo convincenti in realtà partendo dalle funzioni si arriva a ritagliare sempre riduttivamente ovviamente